Amici di Happy Hour, buonasera e ben ritrovati. Questa sera parleremo di una mostra originale, la più grande esposizione di anatomia umana. Parleremo questa sera con il mio ospite qui in studio, per cui do il benvenuto. Buonasera a tutti. Venice Exhibition, questa società, questa azienda madrina di questa manifestazione Real Buddies e organizzatrice anche di tutte le mostre in Italia. Ecco, la Venice Exhibition è stata anche scelta appunto per portare questa mostra in Italia, giusto? Giustissimo. Oltre il corpo umano, perché è stato scelto questo titolo di questa mostra? È stato scelto perché rispetto alla scorsa edizione abbiamo una sala canica. Che cosa si può vedere? Allora, all'interno di questa sala abbiamo, come dicevano i prossimi, stanno arrivando anche questi risultati qui, su questa sala. Quali sono le emozioni, le sensazioni di questi bambini? Immagino che voi le vediate tutti i giorni. Prima sono tutti quanti contentissimi, tutti felici, insomma, di vedere questa straordinaria mostra, capire. Abbiamo detto mostra, mostra a Milano, mostra comunque in Lombardia, che poi verrà portata anche a Venezia, ne parleremo dopo. Ma dove di preciso si trova questa mostra? Allora, la mostra è il Badis. Lunedì e martedì siamo chiusi, siamo aperti dal mercoledì. Riescono magari di non trovare neanche qualche biglietto. Eh, immagino, immagino. Perché è un successione questa mostra. Immagino. Ecco, diceva anche prima che una parte, solo una parte di questa mostra, soprattutto quella dedicata a Leonardo, verrà portata anche a Venezia. Esatto. Allora, tutto è un forse, in senso che la sala di Leonardo, come ripeto, con i 30 della mostra, verrà a essere, soprattutto anche per i ragazzi. È stata posticipata la chiusura di questa mostra di tanto tempo. Ecco, hanno apprezzato questa mostra tantissimo. Ma che cosa? Quali sono, diciamo, i problemi che possono causare appunto queste cose, le droghe, l'alcol, il fumo. Soprattutto, soprattutto le droghe. È importante anche di questa mostra, delle grandi novità appunto della mostra del 2019 è l'immortalità. Ecco, che cosa spiegate con questo? Imparare sono tantissime, le cose da imparare, da vedere, non solo per le scolaresche, ma anche per gli adulti. Perché tante cose non ho mai viste. E quindi dobbiamo assolutamente venire a vedere questa mostra, allambrate, che chiuderà appunto a maggio. 5 maggio. E si possono avere tutte le informazioni guardando il vostro sito. Il nostro sito che è realbuddies.it. Bene, Marco, io sono in chiusura. Grazie anche voi amici da casa e vi ricordo ancora il nostro indirizzo mail che è happyhour.mediapason.it. Potete scriverci per avere informazioni sulla puntata o per proporre argomenti nuovi. Io vi ringrazio, vi saluto e vi auguro una buona serata.